allora ciao a tutti raga bentornati in questo specialissimo house on mix oggi finalmente la puntata che un po' tutti avevamo parlavamo paura di fare per quanto l'aspettavamo e per quanto trasporto abbiamo nel farla la puntata sui cani con Nathan Salvemini che salutiamo ciao a tutti Nathan Salvemini e raga e ha scritto l'unico libro questo qui l'unico libro sui cani esistente nel globo dove narra dalla genesi all'ipotetica scomparsa del nostro eroe Niccolo Contessa una sorta di bibbia tascabile sulla vita di Nicola esatto è una bibbia tascabile e oggi abbiamo la fortuna di parlare con noi e raccontarvi insieme a lui e la storia di questa di questa one man band e di questo sogno musicale musicalmente parlando e anche emotivamente anche emotivamente però tutta tutta la parte emotiva ce la mettiamo è nostra quella persona citiamo le canzoni almeno dopo le e allora Nathan con te volevo volevamo iniziare citando una frase che tu hai scritto nell'intro dicendo che la metamorfosi è l'atto più rivoluzionario dell'uomo e la volevamo ricollegare un po' la al cambiamento e la rivoluzione che che Niccolo eh ha portato nella musica e fin dai primissimi momenti della della sua musica del suo passato nella musica elettronica e quindi beh vogliamo partire un po' da qua ecco certo no guarda ti dico eh sicuramente eh possiamo partire eh da quelli che sono eh gli ascolti eh o quelli che comunque sono stati gli ascolti di Niccolo ovviamente per cambiare le cose eh tutti penso chi più chi meno eh abbiamo bisogno di eh una persona è bravo una figura a cui guardare ok eh possono essere può essere una può essere possono essere tanti ovviamente a seconda anche della nostra apertura mentale e ovviamente possiamo dire che eh la l'importanza che ha avuto eh Niccolo e che ha tuttora nella musica eh italiana insomma contemporanea possiamo dire eh ormai non ha neanche più senso chiamarla musica indipendente perché ormai si è talmente intrecciata esatto si è talmente eh sfilacciata eh sfilacciata questa definizione per cui non non ha proprio più senso chiamarla così ma basta guardare alla uscite ma ma non solo basta guardare la lista di dei dei presenti a Sanremo e già e già crolla tutto perché ti rendi conto che insomma con la pesce e stato sociale fulminacce ma manco manco mi ricordo più ragazzi morti anche a memoria eh sì la la rappresentante di lista cioè sono praticamente è il miami di eh quattro anni fa ok all'arifon è così è così quindi inevitabilmente insomma ci rendiamo conto che qualcosa è successo e secondo me è stato causato in buona parte per fortuna da persone che eh hanno fatto soprattutto una cosa nella loro adolescenza infanzia e adolescenza cioè ascoltare punti di riferimento interessanti quindi eh ascoltare tanto ascoltare tutto possiamo dire ehm io adesso sono di una di una generazione eh particolare nel senso che vabbè io per la mia età anagrafica eh sarei già mh un po' fuori da questo tipo di teorizzazioni nel senso che i i miei compagni sono i miei amici di infanzia e sono persone che sono state musicamente molto eh settarie molto eh eh io vengo da un'epoca in cui c'era ancora molto eh la divisione per generi il genere musicale che significa chi sei tra virgolette esatto se appartenevi al punk eri punk eri punk a bestia esatto e dovevi frequentare i punk se eri metallone dovevi frequentare i metalloni e viceversa e dovevi stare anche attento a a chi frequentavi perché inevitabilmente venivi poi etichettati in tutti i sensi da quella cura insomma da quella esatto poi ovviamente anche adesso eh se ovviamente dipende dall'età anagrafica ci sono eh delle situazioni simili però secondo me la cosa si è molto molto sfilacciata perché di di solito più si va avanti più eh è difficile eh restare fedeli a a una linea ok volendo citare anche altri altri soggetti perché è inevitabile tutti ascoltano tutto la velocità di ascolto anche eh si è eh centuplicata se vuoi ascoltare qualcosa basta che apri un app ah si apri un app e vai su youtube Spotify quello che è e e e ascolti ascolti quindi le possibilità di influenza le possibilità di contaminazioni sono praticamente infinite e questa cosa è stata anticipata da secondo me una serie di eh di artisti di figure e Nicolai uno di questi che si sono ritrovati in una situazione secondo me di spartiacque cioè ehm i nati negli anni ottanta ok eh sono persone che se si sono mantenute chiuse mentalmente quindi insomma adesso io penso purtroppo sembra che parlo male dei degli amici no del 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 paese no del paesello però purtroppo è così cioè c'è chi è rimasto c'è chi è rimasto chiuso e quindi ovviamente non hai sviluppato un gusto musicale no aperto e c'è chi invece magari si è evoluto nel corso del tempo no cioè eh non ti fermi a un solo genere musicale ma pensi che eh può essere che tutta la musica no sia valida cioè ovviamente eh devi affinare diciamo così il tuo gusto però è una è una possibilità e Nicolò è una di queste figure cioè una persona che tendenzialmente ha ascoltato praticamente tutto eh non è mai stato più di tanto diciamo così snob eh lui ad esempio nelle interviste cita eh pochissime situazioni in cui si è ritrovato a giudicare delle cose diciamo così da un punto di vista un po' no le quasi leggendo la copertina e dovendole definire ah vabbè ma questa non è musica no classica era perché perlomeno sarà sentito tutto il disco forse anche due volte bravo e infatti eh dice che gli è capitato solo eh una volta poi ovviamente bisogna vedere se se la cosa corrisponde al vero ma devo dire che lui è molto eh sincero quando a meno questa è sempre l'impressione che mi ha dato anche insomma parlandoci e guarda caso eh cita ehm un album dei Daft Punk e che tra l'altro insomma casca quale migliore? quale migliore per ricordare insomma la la giornaca quotidiana? assolutamente ci sono persone tra cui me che ci metteranno giorni per farsi bussare questa cosa esatto e appunto lui diciamo all'inizio ascoltava principalmente rock o comunque insomma situazioni no alternative diciamo chiamiamole così e ma da molto piccolo e da bambino si ritrova tra le mani appunto un disco dei Daft Punk e si ritrova a giudicare insomma a dire eh ma questa musica è tutto uguale no classica frase da da rocchettone snob no non c'è tecnica non c'è no eh ehm e però lui lo dice proprio che si ritrovò praticamente a dover ritrattare subito questa questa affermazione perché andando avanti poi con gli anni e allargando no il il suo parco personalissimo parco musicale si è ritrovato a a capire che in realtà c'era un enorme valore anche dietro quella musica esatto tanto da marco di fabbrica tra virgolette esatto ridurre sempre meno diciamo così le situazioni classiche quindi dire la chitarra bassa e batteria diciamo così no garage esatto la band diciamo da garage e ad amare sempre di più sintetizzatori e batterie elettroniche e come tu racconti all'inizio inizio inizio lui diceva hai partito tutto perché ci piaceva scrivere test in italiano su basi elettroniche esatto esatto poi in realtà eh ancora prima di scrivere diciamo i testi eh lui eh con un altro componente insomma formano questo duo eh che si chiama che si chiama che si chiamò insomma per molto tempo Taurus eh in cui suonavano appunto French Touch quindi facevo French Touch e copiavo i justice sì praticamente cioè lui eh aveva aveva e non lo nascondevano per niente anzi eh ne facevano un vanto cioè loro erano volevano diciamo essere eh i justice italiani cioè proprio senza mezzi termini e ovviamente e ovviamente i justice non esisterebbero e non sarebbero mai esistiti se non ci fossero stati i daft punk e con loro tutta una serie di altri gruppi molto importanti e ma ce ne rendiamo subito conto da 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 come suona sin dai primi tentativi diciamo così eh ti rendi proprio conto di come per lui sia stato fondamentale quel quel periodo lì perché ehm io ne sento eh gli echi anche oggi perché se senti l'ultimo brano di tutti i fenomeni che ovviamente è un artista che 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 sta curando lui eh parte che ci sono delle frasi in francese che dici vabbè eh vabbè anche un po' si è un po' da deficienti notare che ci sia un'influenza francese in un brano con le parole francesi però è così e se tu senti il sound ti rendi proprio conto che ehi siamo ancora lì eh ci sono eh determinati suoni eh determinati sintetizzatori delle scelte molto eh ben definite e quindi non possiamo non dire che quel periodo lì non sia stato fondamentale per lui esatto io un'osservazione mi è avvenuta mentre Nathan parlava cioè questo fatto qui no è coerente con l'epoca storica nel senso che eh è coerentissimo il fatto che Niccolò abbia iniziato a comporre musica con forti influenze elettroniche in un periodo in cui per la prima volta era possibile produrre musica di quel genere nella cameretta esatto infatti mezzi tecnologici che poi fa ridere in realtà sono già vecchi no no assolutamente anzi eh i gruppi a cui Niccolò si ispira quindi Dust Punk e Justice o comunque insomma tutta quella eh cerchia lì eh producono i primi dischi in in stanze in camere eh c'è proprio un disco del Dust Punk che viene completamente concepito in in camera eh loro sono proprio tra i primissimi tra l'altro in Francia a possedere dei computer eh di un certo livello per quell'epoca e a produrre musica con quei computer cioè proprio si racconta che avessero tappezzato praticamente la la camera di tastiere di di schermi di computer per produrre questo questo disco quindi insomma quindi dalla band da garage come detto te prima sì c'è questa evoluzione la camera esatto che poi notorissimo bedroom pop esatto immaginario del ragazzo con le luci dietro tutto e tra l'altro è anche interessante rendersi conto di come sempre si sta parlando di band anche nel caso dei cani ma che in realtà poi dietro ci c'è da spesso o una sola persona o comunque si di solito c'è sempre una una persona di riferimento che dirige no un po' un po' tutto ma se pensiamo anche ad artisti magari diversi sotto molti aspetti da da Nicolò ma non nella sostanza io ad esempio sono un grandissimo fan da da decenni ormai beh sì di Bon Iver e Bon Iver ovviamente lui continua anzi recentemente sta dicendo che che vuole che si chiami i Bon Iver ecco esatto no perché c'è stata questa cosa che fino a un determinato anno veniva chiamato Bon Iver come se fosse una persona che poi adesso adesso recentemente gli ultimi anni nelle interviste si fanno sempre chiamare i Bon Iver ed è interessante perché poi in realtà comunque è lui poi ci sono certo dei componenti che che suonano che propongono sicuramente delle cose ma è bello vedere come c'è sempre è one man band però boh punto interrogativo e comunque tornando al punto di rottura no che che contessa sia culturalmente dentro di lui che poi rappresca che ha rappresentato poi per la musica italiana il punto di rottura sono i parolini 18 anni e che è l'abbandono di quella vena prettamente elettronica il dj set per intenderci e per avvicinarsi alla scrittura piano piano e al racconto di di esattamente ciò che vedeva e il racconto di ciò che lui era esatto infatti questa è una cosa che abbiamo già detto anche in un'altra puntata di una caratteristica che noi da fruitori abbiamo identificato in contessa cioè questa capacità di descrivere la realtà cioè quello che vede ma senza giudicarla cioè lui non lascia mai un giudizio positivo o negativo lui si limita a descrivere ma in un modo ovviamente tutto su tutto particolare e questa è una cosa che avevamo notato fin da subito e l'avamo già detto anche in un'altra puntata un po' anche come wick anderson mi verrebbe a dire sì sì è vero cosa ha rappresentato cioè i parolini 18 anni in quel periodo là noi eravamo piccoli sicuramente avevamo 18 anni eravate più piccoli dei parolini eravate più piccoli di quei parolini lì cioè che cosa è stato quel momento lì beh quello con gli occhi insomma di adesso col seno di poi mi viene quasi da dire che sia stato veramente probabilmente non dico lo spartiacque ma uno uno sicuramente degli spartiacque che hanno poi ehm diciamo definito tutto quello che sarebbe successo dopo e già qualcuno per verità più di uno aveva fatto questa operazione perché se pensiamo per esempio a a Max Collini a Iofraga Discopax ehm nei primi del 2000 ehm anche loro iniziarono se pensiamo a Robespierre altro non è che il racconto ovviamente visto da dal dal passato eh del del cantante di quella che era una realtà quindi ovviamente un'età per noi un po' distante perché parla degli anni ottanta fondamentalmente insomma sì e quindi insomma è degli anni settanta ottanta quindi il suo il suo periodo però questo modo di raccontare i piccoli dettagli della quotidianità e eh trasmettere in qualche modo anche mh un giudizio però come dite giustamente voi mh più eh cioè meno marcato in Nicolò eh perché comunque Iofraga per esempio ma anche lo stato sociale in questo che sono un po' anche diciamo così gli eredi diretti degli Iofraga davano delle delle dei giudizi anche molto diretti oggettivi esatto spesso anche è proprio ecco esatto 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 bravissimo erano nel senso una visione dall'esterno dall'alto sì perché infatti Iofraga e lo stato sociale erano anche un po' politici diciamo così cioè tu capivi che c'era una direzione in qualche modo con collini con collini palese perché ovviamente insomma socialismo tascavi e già dal titolo ti vengono i brividi erano anche i tempi però eh certo e poi lo stato sociale no quando insomma prendono le loro loro posizioni che per carità è anche lì a volte un po' critiche anche autoironiche nei confronti della loro cerchia di centrosinistra o sinistra non saprei bene come definire però ecco sicuramente Nicolò porta una ventata di novità in questo perché lui è molto super partes e questo essere super partes determina inevitabilmente una cosa io ad esempio sono appassionato di letteratura ho lavorato tanti anni anche in editoria si vede anche purtroppo dietro come come sto messo a casa e devo dire che ho sempre preferito la letteratura fine a se stessa rispetto a certa letteratura interessata mondiale bravo possiamo parlarne anche proprio a livello allargato perché non è solo una cosa italiana ma è una cosa di tutti di di dover sempre dare o un risvolto morale o un risvolto politico alle cose no? alle creazioni artistiche e quando manca questo tipo di approccio nasce secondo me quella che è l'arte pura quindi direbbe qualcuno direbbe qualcuno sì cioè sfoci nella poesia capito? in quel momento sfoci nella poesia e lui è stato molto bravo in questo tant'è che i primi apprezzamenti di Nicolò delle prime uscite furono da parte di anche figure intellettuali no? importanti comunque di un certo tipo sì perché si resero conto che erano davanti non a cantante chitarrina esatto normale diciamo così ma nemmeno un qualcosa di simile a quello che poteva essere la concezione di cantautorato fino a quel momento perché c'è sempre stato anche in Italia questa cosa del cantautorato legato ne parlavamo prima no? di De Andrè e tutto ovviamente a un contesto anche politico nonostante bisogna sempre ricordare che De Andrè alla sua epoca esatto veniva considerato come uno non di sinistra nel senso che anzi quelli di sinistra lo criticavano perché era figlio di papà e quindi stava lì a suonare imitava i grandi cantautori francesi ma chi è questa dove salta fuori che parla degli operai no? ecco voglio dire quindi però Nicolò è esatto come aspetta non ti ho sentito da cui anche storie impiegato da cui prende anche ispirazione contessa bravissimo e infatti lui punta molto su questa cosa cioè io ci vedo molte più assonanze con banalmente i racconti di Carver che non invece ha tutta la tradizione pura italiana musicale insomma nelle opere di Nicolò capito? poi sicuramente scusami Carlo c'è anche il fatto che Contessimo che è figlio del suo tempo come hai detto bene te prima che è un tempo diverso a quello degli storici cantautori italiani quindi è un periodo in cui la politica fa un passo indietro la 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 sinistra i compini sono sempre più malleabili attento è vero è vero però guarda anche a chi è venuto prima di lui tutti i gruppi alternativi italiani tra virgolette diciamo così quindi mi vengono in mente Marlene Kunzi After Hours eccetera eccetera ma anche Subsonica nella loro nel loro casino di Verdena lascia perdere che è un capitolo è un capitolo a parte però diciamo sono molto esatto sono molto legati alla a quello che è la tradizione perché anche se tu leggi i testi di Agnelli degli anni 90 ti rendi conto che comunque c'è sempre qualcosa capito a Bella Ciao di Marlene Kanz con Skin bravi oppure per esempio mio fratello è figlio unico coverizzato Danieli cioè sono tutte tutte piccole capito piccoli potremmo andare avanti bravo piccoli occhie diciamo strissate d'occhio che fanno questi alternativi alla tradizione cantautorale italiana ok io a quello che diceva Jack volevo aggiungere che in realtà Niccolò poi per quanto ne sappiamo per quanto comunque ha dato modo di farci vedere era interessato alla matematica che studiava ai videogiochi di cui forse tuttora si squaglia gli occhi sì io ho sentito recentemente un podcast da tintoria sì esatto da tintoria diceva che gioca a zerda tutto il giorno i videogiochi e la musica e quindi alla fine ed era un grande osservatore questo secondo me nei suoi testi dà quella genuinità della musica per il gusto di fare musica e toglie un po' di quell'interesse verso la narrazione interessata ma rimane una narrazione per quella bravo e poi vabbè ovviamente lì ci sono degli interessi trasversali come dici tu quindi ovviamente per esempio Niccolò è anche un grandissimo lettore io con lui tutte le volte che ho parlato abbiamo parlato un sacco di letteratura perché legge veramente un casino e questa cosa ovviamente ti porta anche ad avere un'apertura di pensiero molto molto elevata ecco mi viene in mente un altro esempio prima per collegarci al discorso e cantautorato pensate anche a Vasco Brondi alle luci della centralia elettrica per quanto innovativa potesse essere all'epoca diciamo così perché già oggi già oggi è quasi insomma fa male è un nonno indi lo possiamo chiamare nonno indi insieme insieme a Brunori cioè comunque sono stati diciamo i due che hanno un po' iniziato così da soli però sono diversi sono diversi perché c'è sempre quello sguardo inevitabile verso il cantautorato italiano vecchio stampo invece Niccolò ha allargato diciamo ha puntato molto di più l'orizzonte verso l'internazionalità e qui infatti dopo ti leghi a tutto il mondo nerd definiamolo così quindi le serie tv i videogiochi e i libri particolari gli interessi verso la matematica la fisica insomma cose che un De André è difficile che nonostante ovviamente sia un mostro sacro come anche Dalla e tutti gli altri però ovviamente è tutto un'altra generazione tutto un altro approccio e anche tutta un'altra società secondo me quindi esatto anche questo semplicemente e quindi riassumendo un po' il primo disco d'esordio quindi il sorprendente album d'esordio dei cani e le caratteristiche e i fattori comuni che collegano canzoni come i pariolini Wes Anderson ipsteria e le vellità in cui c'è un bellissimo passo che se dopo mi rendo un minuto per leggerlo sul lavoro creativo e diciamo che i punti comuni sono e anche innovativi che quindi fanno diciamo tendere l'orecchio a tutto il pubblico è questa narrazione così così oggettiva così cruda anche sotto un certo punto di vista perché proprio ti schiaffa in faccia come aria compressa avrebbe un secondo album ci muoviamo di citazioni ci muoviamo di citazioni è bellissimo però non so perché c'è un po' per tutto ormai no tra l'altro è proprio il racconto che diventa la cosa fondamentale che fonda tutto ok perché è proprio cioè è quello è il racconto in sé tra l'altro può essere il tutto sintetizzato forse lo dico anche nel libro non mi ricordo dal passo in cui dice io voglio raccontare voglio che mi si racconti quindi tu proprio capisci che in quella situazione lì lui proprio c'ha c'è c'ha gusto gli piace fare quella roba lì cioè raccontare la realtà però semplicemente osservandola e dicendo cosa succede dopodiché poi sta a te giudicare se è giusto se è sbagliato se i pariolini sono delle persone intelligenti oppure se sono delle persone da evitare cioè esatto è proprio quello che dice io voglio raccontare personaggi che te non sai se sono buoni o cattivi io te li presento così come li vedo perché i cattivi non sono cattivi davvero esatto ecco sì anche anche nel nel pariolini a un certo punto c'è un passaggio in cui gli dice che che li guarda li osserva e lui non sa perché l'invidia cioè lui si chiede proprio ma io perché li sto guardando cioè se li guardo cioè è anche molto psicanalista in questo ovviamente avendo anche un passato è evidente perché lo racconta nelle canzoni in psicanalisi quindi dallo psicologo o dallo psichiatra non 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 indaghiamo però capite che ovviamente questa questa cosa ti ti apre no a un'autoanalisi molto come dire sviluppata ok quindi inevitabilmente lui guardando i pariolini capisce che per il solo semplice fatto di guardarli sta desiderando di essere come loro e allora se lo chiede dice ma perché io voglio essere come loro cioè cos'è che mi che mi manca è vero e più che altro a me piace molto questo aspetto qui di Contessa perché no è come se si soffermasse in un aspetto della società che tutti su cui tutti vanno oltre su cui nessuno si sofferma no in una società in cui si è abituati da quando si nasce a vedere a vedere i pariolini quindi quest'identificazione sociale qui nessuno fa più caso ai pariolini nessuno si domanda più il perché il per come e è bello a me piace molto questo aspetto di quello che porta in scena momenti su cui nessuno si sofferma perché quotidiani e questo lo dice lunga proprio anche come ha detto il nostro passato magari in analisi eccetera cioè questa capacità di soffermarsi su dei piccoli testagli che tutti noi oggi il mondo che va sempre più veloce ognuno con i suoi pensieri eccetera non siamo più portati a esattamente esattamente e infatti canzone per in tre minuti lo fa per sé esattamente così tant'è che insomma canzoni poi che verranno fuori dopo molto più intime perché c'è da dire che lui all'inizio ha giocato molto sul nel primo album è molto più generico no molti lo presero anche in giro quando uscì il disco lo chiamarono un po' il tutto città sì perché infatti parlava era come se stesse veramente bravissimo un po' come faceva guzzanti quando suonava il piano all'uscita 27 e poi elencava nell'ottavo anno però nell'album successivo lui diventa molto più intimo tant'è che butta fuori canzoni molto personali come l'exota no che è evidente che racconta di un disagio suo interiore appunto per citare la psichiatria o la psicanalisi di prima questo definisci glamour come il disco più complesso e forse la complessità di questo disco sta proprio anche nella complessità della situazione interiore dell'interiorità dell'interiorità decontessa guarda io stavo se non ricordo male alla stazione di Ancona quando usci il disco e mi ricordo che all'inizio diedi una scorsa ai titoli e pensai bah cioè nel senso è è una un momento molto importante per un artista quello del secondo album perché dal secondo album capisci se questa persona avrà un futuro oppure esatto oppure se era semplicemente una tipo gazzelle insomma è così sì tipo gazzelle oppure se veramente sta sta prendendo per il culo anche i suoi ascoltatori perché poi il rischio di degli artisti soprattutto adesso è che creano delle situazioni per cui si ritrovano con un target poi dopo se ne ritrovano un altro c'è anche gazzelle pian pianino si è ritrovato proprio una sorta di discesa soprattutto anche a livello di età no io proprio mi ricordo benissimo quando iniziarono ad ascoltarlo a gazzetti di 10 11 anni e ad appassionarsi alle canzoni di gazzelle quindi lì proprio ti rendi conto che sta succedendo qualcosa di imprevisto esatto e quando uscì lui col secondo disco invece intanto ci si rendeva conto subito delle intenzioni perché chiamò un componente di Yoflaga a produrlo tra l'altro è una persona che purtroppo è venuta a mancare per una per una grave malattia ed era amicissimo con lui era molto amico e questa scelta di averlo come producer diciamo così del disco è secondo me anche proprio una presa quasi una presa di posizione cioè come a dire esatto io mi fido molto di questa persona che musicalmente è una persona con un livello altissimo proprio di preparazione e quindi è stato proprio è stato proprio così secondo me è nata dalla stima nei confronti di una per quel disco è nata dalla stima nei confronti di una persona che conosceva personalmente e che stimava a livello lavorativo e dall'incontro invece della con questo disco appunto dei Bostel che uscì improvvisamente tipo Fumina Celsereno lui rimase letteralmente forgorato da questa cosa e decise in quel momento di far uscire qualcosa di simile perché poi in realtà si poi in realtà uno quando quando crea qualcosa lo fa perché vedi qualcun altro che ha creato qualcosa e allora pensi adesso voglio provare a fare una cosa simile che piaccia a me ok se piaccia a me magari può piacere anche a qualcun altro ok di solito è così che succede anche chi inizia a scrivere scrive perché legge qualcosa che lo colpisce e quindi è come una sorta purtroppo usando una metafora ecco ma mulativo direi proprio anche virale purtroppo usando una metafora che oggi non è il massimo però coerentissimo ai tempi no no è così secondo me è questo e Glamour è grazie a tutti